Musica Jingle Teddy, scivola, perde palla, scippato da... Disney che va con la schiacciatissima sopra il ferro L'urno da guerriero Squadra molto rodata quella di Martellossi che ha fatto delle aggiunte importanti con Castelli, Hesbruck e Huff Jackson penetra e scarica per Moreno, deve affrettarsi e arriva allo scadere Un tiro pazzesco di Jingle Moreno Riceve Sorocas che batte dal palleggio Maiocco La difesa salta, allora Sorocas si porta a casa anche il ferro Un grande giro di Castelli Putta, Caspardo! Va con un gran canestro! Potete non cercare il giro Un tiro Pineda in pericola Pineda 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 Per una scacciata a due mani Pineda 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 Pinedad아 Pineda Up nei top ten, questa topattone, transizione 2 and 1, se non andiamo nei top ten questo non ci andiamo. Direttamente a Sadler, non fallo, non fallo, e schiacciata, time out tempestivo. 10 secondi per concludere l'azione per Tortona. Valenti, Piccarolla, retto tiro, non c'è, doppio sotto. OOOOOOO! Schiacciatone sopra tutto, Megna, di Croquet! E mi faccia gli annotti. Ma anche tutto resta da squadra.